Stai cercando metodi efficienti, veloci, ma che soprattutto ti diano la sacrosanta tranquillità nel tradurre questa roba che può sembrare incredibile, assurda e cattivissima Benissimo, stai sul canale giusto, iscriviti, clicca sulla campanellina e noi ovviamente ci facciamo questa bellissima versione Dopo la sigla, che ovviamente non c'è, quindi cominciamo subito, vieni... No, aspetta, lascia che mi presenti in primis, io sono il professor Antonello Professor Antonello... No, vabbè, ma quello non... il nome totale di matricola non c'è neanche bisogno perché già i nostri dizionari non dà battaglia sui... Se non sbaglio, hanno cominciato a mettere delle robe incredibili anche in giro, quindi ovviamente sono sicuro che già in qualche modo mi conosci Dunque, se non mi conosci, io qui aiuto in latino e greco e nelle altre materie umanistiche nel dare un metodo originale, pionieristico, che non dà nessuno Quindi iscriviti, clicca sulla campanellina, però già detto per non farmi essere ripetitivo Qua rimus patema misit, cum dodecimannum mageret aviam juliam, quede funterat propunzione laudavit Cum profectus est et moxa vunculus in Spaniam adversus, cneppum pe liberos, vixdum firmus Qualc'altra roba? E tra l'altro è anche tagliata sta roba, cioè del divus augustus, cioè veramente hanno fatto, cioè autore di questo libro Però, ok, sì, ci posso stare, assolutamente, per quanto sì, teatralmente l'ok, non bisogna neanche dirlo Però va bene, tu registri zero kill esattamente a mettere sta roba qui Però sappi che sarebbe bello intanto mettere le robe originali, quindi senza neanche i segni di interpunzione Ma poi, almeno tutto insieme, poi ok, diventa una pagina più grande Ti odieranno di più alcuni scansafatiche del liceo che non sono evidentemente meritevoli del loro liceo Però, fa niente in fin dei conti, cioè perché uno deve prostrarsi per non utilizzare qualche castro, stavo dicendo E quindi, chissà che cosa la mia mente inconscia sta partorendo in questo momento Per non utilizzare nessun altro termine foscoliano, non prostriamoci in questo modo, veramente, eh Vabbè Non fra giù menziam feci, il sed mani opere de meruit, et approbata est citetiam morum in dualesse Su per i tineres industriam Um, cesar postre, ceptasi spagnas, expedizione mindago se tindi in partos destinaret Forse, vedi, 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 vedi Poi mi danno anche, mi inviano, mi fanno questi riti voodoo e quindi mi fanno anche cadere dalla sedia Benissimo, perfetto, vabbè Siamo all'interno di una proposizione subordinata relativa, quindi abbiamo un soggetto, una soggettivizzazione completamente nuova Quindi NS1, verbo, terza, persona singolare, indicativo presente Proconzione Laudavit Quindi, pro Andiamo a andare Non è assolutamente come il prost greco, eh Attenzione ABS3, laudavit, verbo, terza, persona singolare, indicativo Perfetto, attivo Ciao carissimo, Angelo Guardiano Quadriennio Post Quindi attenzione perché qui siamo in una determinazione anche temporale Se vogliamo, vuol dire dopo ABS1 Virilem, Togam, ACS1 ACS Apice3 Sumpsit Questo è un paradigma molto interessante Fate attenzione Soprattutto ricordatevelo perché lo troverete tante tante volte D'altronde è un verbo a cui noi italiani, come si suol dire, teniamo anche tanto E mi fermo qui Mi fermo qui Verbo, terza, persona, singolare, indicativo Perfetto Attivo Militari Busdonis ABS2 In questo caso ABS Apice3 Triunfo Cesaris Africano Donatus Est Che cosa va a significare? Quindi dove siamo? Eh, cosa dobbiamo collegare con cosa? Mas, ovviamente Triunfo Africano Cesaris GS3 Interposto Chiaramente Africano Quindi ABS Apice2 Periodizzazione della nostra casualità Pensando addirittura una non legazione dell'attributo A vantaggio del sostantino A cui questo quindi si va a riferire Donatus est Che sta roba è donato? Chiaramente no Attenzione verbo, terza persona, singolare Attenzione Forse sto dicendo cavolate Sto dicendo cavolate Per cui cadranno delle teste Per chi deve essere Lo scrivo qui bello grande Lo stranamente funziona Licenziato Al tecnico che deve essere licenziato Qui adesso funziona Nel momento in cui ha messo in mezzo Il licenziamento del preposto Vedi come subito E' comunque la maledizione Io credo La maledizione degli studenti No Io ci sono passato anche io Perché comunque Per quanto Che tu ci pensi o no Che tu lo voglio o no Cioè Sta roba Anche io Ho Come dire Come era quel bellissimo termine Che non inizia con spu Anche io Ho goduto Con il professore Che sbagliava Alla lavagna Che non riusciva Capito Non funzionava niente Con quei bei Quei bei Sibarietti strani E questa E' la iubris Io sto venendo punito In questo momento Ti sei divertito Quando Prendevi in giro Il professore A cui si staccava internet Che non riusciva A far funzionare La limma Adesso Ma è E' una ruota Futuri professori All'ascolto E' una ruota Varrà così per tutti Quindi Donatus est Cosa abbiamo Verbo Terza Persona singolare Indicativo Perfetto Passivo Cum Attenzione Perché il cum E' direttamente Proporzionato A questo Bellissimo asset Quindi fare tanta 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 Attenzione Stavolta Dicono che io Sia notoriamente Un Cassante Un cannante Di proposizioni Di cum Congiuntivo No non è assolutamente Così Io semplicemente Vado a vedere Qualche volta Sbaglio anche a posto Uno Per alimentare Ah Stavolta posta I vari commenti Per aumentare Il watch time Eccetera eccetera Ma poi anche per farti Ragionare con la tua testa Perché sta roba O ragioni con la tua testa Oppure Comincia ad essere Anche un gran panico Quindi Experts Belli NS3 GS2 Propter Etatem Quindi di causa Questo direttamente Ma sicuramente Quindi Ob propter Comera Piace Certo GS3 Comun Profectus Esset Tutti insieme Anche qui la passivizzazione Se la vogliamo Allora andiamocelo a prendere Verbo Terza Versione Singolare Congiuntivo Più che perfetto Passivo Mox Avunculus Quindi NS2 In Spanias In Più ACS Questo pluralia tantum No Semplicemente ACP Quindi 1 Adversus Contro Questo è Semplicemente GS2 Liberos ACP 2 Vix Dun Firmus Grave Valitudine Quindi NS2 Asta Con valitudine Quindi ABS3 Gravi GS2 Eum ACSD Cosa Di che roba Isaid Subtesecutus Est Verbo Terza persona Singolare Indicativo D'unione E allora ci possiamo stare Quindi ABP3 Infestas ACP Direttamente 2 Quindi Perché no Via Scum Paucissimis Comitibus Questo è direttamente Di compagnia A questo punto Evidentemente Quindi Paucissimis ABP Tra l'altro Questo è addirittura Un attributo Al grado Superlativo Ci siamo Anche qui ABP3 Naufragium Messian Fecit ACS2 Fecit Verbo Terza persona Singolare Indicativo Perfetto Attivo Va bene Sed Magniopere Abverbio Semeruit Verbo Terza persona Singolare Indicativo Perfetto Attivo Approbate Attenzione Perché Questa Femminilità Versionata Verbo Terza persona Singolare Indicativo Perfetto Passivo Cito Che Tu Non Ce la Fai In Due Ore Con Questo Metodo Ce la Fai L'analisi In Meno Di Mezz'ora Ma com'è Sta roba Sembra Stranissimo Sarà Sicuramente Matto Questo Signor Antonello Che Qui Su Internet Fa Lo Strano Fa Come Come Dicono Alcuni L'imbonitore Interessante Beh La prendo Con filosofia Considerando Che Bonus Bona Bonum In latino Va a significare Roba Interessanti Ci siamo Quindi Se ci sono Dubbi Se ci sono Robbe strane Mi raccomando Scrivi Un commento Chiedi Soprattutto Iscriviti Clicca Sulla Campanellina Perché Su questo Canale Trovi Tutto Quello Che Ti serve Per il Liceo In ciò Che Concerne Il latino Il greco E tutte Le materie Umanistiche Per le Ingegneristiche C'è L'altro Dipartimento Della Delac E io Grazie a Dio Non me Ne Occupo Con Tutto Il bene Per Ok Quindi Cum Voi avete Anche il coraggio Di dirmi Che il latino È difficile Veramente Siamo Veramente Messi Malissimo Siamo Veramente Stiamo Messi Siamo Alla Frutta Secondo me Non Cioè Potremmo anche Chiudere qui E far Come dico sempre io Cioè facciamo tradurre Direttamente al libro Che i libri Mettano delle traduzioni Vicino Come il classico Ok Come in terzo anno Tu studi Virgilio La poesia Con Si faccia anche qui No È così Quindi veramente No problem Ce la possiamo fare Si dice Ce la dobbiamo fare Ok In Quindi In Eum Eredenque Quindi tutti A-C-S In questo caso In questo caso Tre Se Riflessivo Con Perit S In ogni caso Questo è infinito Perit Verbo Terza persona singolare Bla 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 Ok Ci siamo Ok Continuiamo Diu Con Tatus est Tanem Urbem Verbo Terza persona singolare Indicative Tanem Urbem A-C-S Tre Repetit Verbo Terza persona singolare Indicativo Perfetto Attivo Erditata Ema A-C-S E abbiamo quindi Siamo con A-D-IT Indicativo perfetto Di A-D-O Anche questo Ovviamente Vedi Ciò che c'è di bello In una versione Ce lo vanno a sputtanare Loro Andandocelo a Dire Ok Andandocelo a spoilerare Eppure sono versioni di autore Queste Quindi dovrebbero essere Anche Dovrebbe essere Ancun piacere Andare a scoprire Alla mist L'enigma Come se uno va a giocare a Riven Con La guida davanti Senza il blocco Degli appunti Vicino Non sarebbero stati Neanche creati Quei giochi Se Avessero I loro programmatori Saputo Che Avremmo avuto Questi malcostumi Comunque Erbo terza persona Singolare Indicativo Perfetto Grazie Mi fermo A questo punto Mi fermo Allora Quattro anni Perse il padre Compì Dodici anni Agendo Il dodicesimo anno Quindi Trovandosi Nel dodicesimo anno Lo dò Davanti All'assemblea La Zia Giulia La nonna Anzi Giulia Come era quella In spagnolo Sveglia Sto parlando Della nonna Quindi La nonna Giulia La quale Era defunta Lo dò davanti All'assemblea Circa un quadriennio Più tardi Assunse La toga Virile Ok E Donato Fu donato Di doni militari Fu ricompensato Con doni militari Nel trionfo africano Di Cesare Cuma In questo caso Concessivo Benché Fosse Escluso Della guerra Fosse Escluso Della guerra Fosse Tirato fuori Dalla guerra A causa Dell'età Essendo partito Quindi Quando partì L'avunculus Lo Già Adottivo Potremmo dire Nelle Spagne Nelle Spagne Contro I figli Di Pompeo Sebbene Sebbene Fermato Anche se Fermato Da Una grave Malattia Da una grave Convalescenza Tuttavia Lo seguì Attenzione perché Subseguo Redeponente E Per Su Una strada Lo seguì Come dire Qui manca il verbo Anche Per strade Infestate Con Nemici Con Pochissimi Compagni Di viaggio Si dovrebbe dire Vedete come Non è Troppo Troppo Agevole Soprattutto andando A braccio Però sono tutte versioni Che si possono fare Perché Perché io Qui ho scritto Robbe che mi tracciano La via Per quanto Infestate Infeste Ostibus Ok E fece anche un naufragio Ma Fu largamente apprezzato Ottenne meriti Largamente E fu apprezzata Soprattutto L'indole Delle spregiudicatezze Quindi Fu apprezzato Diciamo Fu apprezzata La spregiudicatezza Dei caratteri Il fatto che Era riuscito Da solo Ad arrivare Sin lì Oltre Alla laboriosità Del Viaggio Quest'altra signorina Per quanto Interpolata Si va a tradurre In questo modo Quando Cesare Destinò Una spedizione Contro i daci E quindi Contro i parti Dopo la sottomissione Della Spagna Lo inviò Ad Apollonia E Qui Si dedicò Agli studi Cioè qui Si svagò Con gli studi Teoricamente Perché la scuola All'epoca Era considerata Ok Tempo libero Dalle fatiche Quindi Ok Diciamo Si dedicò Agli studi Visto che Noi oggi Ce l'abbiamo Con questa Preminenza Non appena Seppe Che era stato Ucciso Cesare Che lui Era l'erede A lungo Indugio Questa Ce l'ha scritto Altro qui Però ok E infine Tornò in città E prese L'eredità Basta Basta Io con queste versioni Adesso la prossima volta La scrivo io Una versione E farò in modo Che Vengano licenziati Tutti quelli Che vogliono rendere Le robe Difficili Ci sta no? Iscriviti E clicca sulla campanellina E noi ci vediamo